Mezzanotte 35, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, cominciamo subito con la politica. Il governo Conte ha avuto anche la seconda fiducia, quella della Camera e il Premier Conte ha tenuto un discorso che ha integrato quello che aveva svolto il giorno prima al Senato, ma in questo caso, soprattutto durante le repliche, ci sono state anche delle contestazioni. Insomma, c'è stato un clima un po' più teso. Vediamo il servizio. Il governo Conte incassa la fiducia anche della Camera, 350 voti a favore, 236 contrari e 25 astenuti. La coalizione Lega 5 Stelle, dunque a Montecitorio, ottiene anche 4 voti in più. Per il no, invece, Partito Democratico, Forza Italia e Liberi Uguali, Fratelli d'Italia, così come già fatto a Palazzo Madama, si astiene. Il Parlamento ha dato la fiducia al governo del cambiamento, da oggi pronti a lavorare per migliorare la qualità della vita degli italiani e il commento del Premier Giuseppe Conte, che nel suo discorso programmatico parla di sud, scuola, infrastrutture e poi dei rapporti con l'Unione Europea e di debito pubblico, che, spiega, vogliamo rinegoziare e annuncia un vasto programma di investimenti pubblici infrastrutturali, che potrebbe essere attuato e finanziato, spiega, in deficit, senza creare un problema di sostenibilità del debito pubblico. Il dibattito a Montecitorio, comunque, si rivela molto più spigoloso per l'esecutivo, ad attaccare soprattutto le due principali forze di opposizione. Per il PD, il capogruppo Graziano Del Rio si rivolge direttamente al Presidente del Consiglio e dice non venga a parlare in quest'Aula di cose che non conosce, sia umile e studi, non venga qui a fare lezioni, non faccia il pupazzo in mano ai partiti, si faccia sentire. Pesanti anche le parole del Presidente del Gruppo di Forza Italia, signor Presidente del Consiglio, dice Maria Stella Gelmini, la campagna elettorale è finita, il tempo della propaganda, degli slogan, delle dirette Facebook, degli insulti al Palazzo, alla casta, come la chiamate voi, è finito. E dopo domani Conte debuterà sulla scena internazionale, partecipando al G7 che si svolgerà in Canada, gli Sherpa stanno già preparando i bilaterali con Trump, con Theresa May, con Trudeau, il premier canadese, Angela Merkel, si dovrà affrontare anche la questione russa, perché nel discorso che ha tenuto oggi Conte ha detto che l'Italia si ha la sua posizione privilegiata nell'Unione Europea e nella Nato, ma ha anche proposto Conte di riaprire alla Russia e rivedere le sanzioni che sono state imposte a Mosca dopo l'annessione della Crimea e la guerra nell'est dell'Ucraina. Parole che hanno avuto già la risposta da Merkel e Stoltenberg, segretario dell'Alleanza. La Russia è fuori dal G7 per i suoi comportamenti, ha ricordato la cancelliera, mentre per Stoltenberg molte cose dovranno cambiare prima che la Russia venga sollevata dalle sanzioni. Ricordiamo anche che dopo quelle vicende la Russia uscì dal G8, fu espulsa dal G8 che appunto è tornato ad essere un G7. Si è parlato di infrastrutture nel servizio sul discorso del premier Conte, oggi il ministro delle infrastrutture è andato a Torino al Salone dell'Auto per la sua prima uscita pubblica, ha incontrato il presidente della regione Chiamparino, dal quale è diviso profondamente da una vicenda che il Movimento 5 Stelle invece, perché per il Movimento 5 Stelle è un importante cavallo di battaglia, quella della TAB, vediamo. Chiamparino può stare tranquillo, potrebbe non esserci mai un treno sulla linea Torino-Lione, è una battuta del neoministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, oggi a Torino al Salone dell'Auto, la prima uscita pubblica dopo il via del nuovo esecutivo, ma da il senso della linea del governo giallo-blu sulla questione TAB. Il ministro risponde scherzando al governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, che il giorno prima aveva detto per fermare la TAB dovranno passare sul mio corpo e non scherzava. Sull'alta velocità Italia-Francia e 5 Stelle sono sempre stati contrari, anche nell'ultimo Consiglio regionale, 48 ore fa, hanno votato contro a sostegno dell'opera, invece la Lega, alleato di governo, il PD e Forza Italia. Nel contratto di governo, quello del cambiamento, sulla TAB c'è scritto che il Movimento pentastellato e la Lega procederanno in una rivalutazione dell'opera, quelle valutate utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere, conclude Toninelli. Il ministro non si sbilancia, sceglie la diplomazia rispetto alla posizione più dura del vice premier e leader dei grillini Luigi Di Maio, che a metà maggio aveva detto la TAB poteva servire 30 anni fa, ora è inutile, andremo a dire alla Francia che non serve. Al momento il premier Conte ha evitato ogni riferimento all'alta velocità. Il Consiglio superiore della magistratura ha chiesto l'immediata sospensione dei processi che si stanno svolgendo nelle tende davanti al Tribunale di Bari. Il palazzo è pericolante, la protezione civile ha allestito una tendopoli nel parcheggio dove sono stati allestiti sia gli uffici che le aule. Il neoministro della giustizia, Bonafede, domani andrà a Bari nella sua prima uscita ufficiale per rendersi conto della situazione e dovrà decidere quale provvedimento adottare. Dal canto suo l'Associazione Nazionale Magistrati chiede un intervento di carattere straordinario e l'individuazione di un altro immobile dove trasferire al prima possibile gli uffici penali della città. È diventata un caso politico internazionale la partita amichevole che si sarebbe dovuta giocare tra Argentina ed Israele a Gerusalemme. Vediamo. La partita di calcio tra Argentina ed Israele che si sarebbe dovuta disputare sabato prossimo inizialmente ad Haifa e che poi sarebbe stata spostata a Gerusalemme non si giocherà. Ad annunciarlo la federazione di Buenos Aires che ha motivato il clamoroso ed inatteso gesto per ragioni di sicurezza volte a tutelare i suoi giocatori che avrebbero ricevuto minacce ma anche pressioni da parte di militanti palestinesi che volevano un boicottaggio del match. Anche Jibril Rajoub, numero uno della fede del calcio locale, aveva minacciato di fare bruciare in tutto il mondo arabo milioni di magliette come quella indossata dal fuoriclasse Messi. Lo sport dunque sale, suo malgrado sulla ribalta delle controversie internazionali, in questo caso quelle del Medio Oriente. Anche il premier Netanyahu impegnato in questi giorni in una missione europea ha tentato una mediazione con le autorità argentine ma tutto quello che ha riuscito ad ottenere sono state le scuse del presidente Macri e la rassicurazione che all'origine del gesto non ci sarebbero motivazioni politiche o ideologiche. Giustificazioni che però non hanno convinto il governo israeliano. Il ministro della difesa Liberman ha detto che è una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni di chi odia Israele, mentre la sua collega lo sport ha commentato purtroppo le minacce terroristiche che hanno compresso la volontà della nazionale argentina. Questo tra Argentina e Israele, intanto il calcio italiano è alle prese col calcio mercato. Ora che Gigi Buffon ha la certezza delle partite, tre che dovrà saltare nella sua prima stagione da ex Juventino, domani potrà annunciare il suo approdo al Paris Saint-Germain. Stesso timing per la chiusura dell'accordo fra Mattia Perin e la Juventus, anche se non sarà lui ma il polacco Szczesny a sostituire il portierone più famoso d'Italia. In casa bianconera ci sono altre preoccupazioni dopo le parole di Higuain. A Torino sto bene, dice dal ritiro dell'Argentina, ma considero la Premier League il massimo per un calciatore di livello. Chelsea e Manchester United le sue possibili mete per una plusvalenza che la Juve userebbe per acquistare Milinkovic e Savic, mister 100 milioni. Ma c'è anche Pjanic al centro delle mire di club ricchissimi come Barcellona, Real Madrid e PSG, un obiettivo che potrebbe costare attorno agli 80 milioni. Con la trattativa per Verdi al Napoli, ormai in dirittura d'arrivo, un'altra rivale della Juve in grande attività è la Roma che stasera ha colto il suo nuovo acquisto, Brian Cristante. 30 milioni tutto compreso il prezzo dell'ex Atalantino che domattina sosterrà le visite mediche. E Maximus al fianco di Francesco Totti non è un altro nuovo giallorosso, ma il premio Oscar Russell Crow, ospite d'onore alla prima del gladiatore al Colosseo. E che sappiamo essere anche tifoso romanista. Adesso però, prima di salutarvi, vi diamo degli aggiornamenti del caso di Pamela Mastropietro, la ragazza, lo ricorderete, uccisa e fatta a pezzi nelle Marche. Laki Avelima e Desmond Laki, due nigeriani che erano stati fermati in un secondo momento dopo in osento o segale, avranno revocato il carcere per omicidio e vilipendio di cadavere, ma non per spaccio di droga, quindi restano in carcere. Significa che, anche se non si va ancora verso l'archiviazione, stanno uscendo lentamente dall'inchiesta per quello che riguarda l'omicidio della ragazza. Per questo omicidio resta indagato e in carcere innocent o segale. Mezzanotte 44, ci fermiamo qui. L'informazione, come sempre, torna domani mattina. Arrivederci.